Buongiorno amici ben ritrovati anche oggi siamo in giardino e non in cucina a fare un po' di giardinaggio a fare un po' di lavori con Matteo e poi oggi vi presentiamo i nostri animali che l'altra volta giustamente qualcuno mi ha fatto notare non ci hai parlato dei tuoi cani nostri cani facciamo vedere gli animali con Matteo che è qua adesso giro la telecamera e la porto subito su Matteo eccolo qua Matteo è qua vicino al forno a legna un altro dei suoi barbecue che è già alle prese con del fuoco è Matteo Matteo saluta c'è una bellissima maglietta Matteo col gallo che gli hanno regalato i suoi amici proprio questo weekend Matteo ti giri a salutare i nostri amici di youtube ciao ciao adesso gli facciamo vedere i nostri cagnoni andiamo a cercare Pongo e Emma ed eccoci qua ora andiamo a cercare i nostri cani passiamo sempre dal mio giardinetto aromatico adesso Matteo che chiama Emma allora noi abbiamo due bovari del Bernese qui c'è un po' di confusione perché stiamo facendo il giardinaggio ora facciamo un altro giro della casa qua c'è il retro qua tutte cose da maschi che stanno lavorando facendo delle cose ecco questo è Pongo e qua vi facciamo vedere qui abbiamo i lavoratori Tommaso mio marito Matteo Aurora che stanno lavorando e guardate un po' qua chi c'è guardate abbiamo due caprette le caprette di Agnese lei è Neve e lui è Fiocco ovvio guardate un po' Matteo facciamo vedere le tue caprette anzi in realtà sono di Agnese neve queste caprette sono quasi addomesticate Agnese la mia nipotina più piccola è molto molto brava e l'ascoltano a me no questo è Pongo questo bellissimo cagnone bovaro del Bernese sta facendo un po' la muta e cambio del pelo un po' sparnazzato e va anche lui d'accordo con le caprette qui abbiamo un po' di boschetto un po' di verde tante acace e il telo della piscina che asciuga e poi vi presentiamo degli altri animaletti guardate qui ci sono le tartarughe con la loro casina ma che carine di realtà dovrebbero essere quattro ah eccola qua l'altra qua e questa è la casetta delle tartarughe questo è il nostro piccolo spazio che abbiamo per l'estate dove facciamo le mangiate le sbaraccate con gli amici là ci sono i punti dei barbecue e qui è dove d'estate animiamo un po' ed ecco vi presentiamo Emma Emma è un po' cicciottella però lei è la femmina quindi abbiamo Emma e Pongo Emma fatti vedere è bellissima Emma guardate è uno spettacolo buona dolce lei è meravigliosa e ancora le caprette in pole position guardate che sono curiose qua siamo ai corteggiamenti qua abbiamo i maschi cosa state facendo restauro bagni restauro bagni va bene e qua c'è di nuovo Matteo questi sono Lillo e Mamà che vedete sempre anche quando faccio le ricette loro stanno in casa sono due Maltesini e poi abbiamo tanti gattini ma sono dietro casa loro un po' difficile sono un pochettino più selvatici e poi questa qui è una delle mie piante preferite questa è un'altra parte del nostro giardino e poi c'è un'altra cosina carina questa qui è stata fatta per Tommaso quando era un bimbetto ancora la casetta sull'albero ora vi salutiamo vi auguriamo tutti una buona giornata noi torniamo io al mio giardinaggio Matteo tornerà al suo fuoco ognuno le sue cose sono qua con una grande confusione piano piano si fa tutto i giardini così grandi richiedono un po' di tempo grazie a tutti